benvenuti su radio web in volo siamo in compagnia di fabrizio raggi noto attore e regista san marinese grazie mille per essere qui con noi grazie a voi piccola precisazione e perché ci sono anche io questo è diciamo un incontro un po tra compagni di corso compagni di merendo volevo dire perché dovete sapere che fabrizio radi è stato anche il nostro insegnante di teatro poi avremo modo di parlarne iniziamo chiedendoti come è iniziata la tua carriera di attore è iniziata negli anni 90 dopo il liceo sono andata a roma ho studiato ho fatto un paio di scuole e poi facevo tanti spettacoli allenandomi tutti i giorni più o meno e fino a che poi un bel giorno è arrivato un provino importante con degli attori importanti e da lì è iniziata la mia carriera con anni di tournée tutto il resto dunque tu hai fatto sia teatro cinema e fiction tv ecco in quale ambito ti senti più a tuo agio ma sicuramente nel teatro perché con tanti anni di esperienza nel teatro è più più casa mia e più sento più a mio agio e più mi rimane più facile il set è molto bello del cinema della televisione stare sul set è un'esperienza importante però il teatro ecco è più più una mia più più mio ecco più una mia mia attitudine tra le fiction a cui hai preso parte c'è anche don matteo come è stato recitare con terence il è bello è stata una bella esperienza lui è un attore molto serio un bravo professionista e sul set è molto amato da tutti ti mette a tuo agio no devo dire che è un uomo straordinario la cosa divertente ogni tanto con questa bicicletta ogni tanto poverino cadeva si bloccavano le riprese perché dalla radiolina della regia sentivo stop terence è caduto poverino si però no è un uomo fantastico devo dire che è stata una bellissima esperienza quindi spero che continui con questa serie perché siamo al si stanno girando la dodicesima serie che dovrebbe essere l'ultima però ecco è stata una bellissima esperienza e lui è fantastico abbiamo accennato prima al fatto che siamo stati appunto io da lille compagni del corso tenuto da fabrizio raggi che infatti appunto oltre ad essere attore è anche insegnante di recitazione tra l'altro predilisi tu fabrizio anche il metodo di lee strasberg ecco come mai hai scelto questo metodo come impronta proprio del tuo insegnamento della tua didattica perché il metodo strasberg è quello che ti dà una maggiore formazione ed una maggiore verità nel momento in cui sei in scena e rappresenti non ti fa recitare ma ti fa interpretare recitare in qualche modo e fingere la tradizione della scuola italiana ti porta a ad avere sì una buona tecnica quindi la dizione portare la voce e tante cose però in qualche modo ti da un insegnamento che nasce da un metodo che è di stanislaschi stanislaschi diceva come se fosse dovete recitare come se fossi immaginatevi di che ne so faccio una scena un'idea perché ne so durante un film nel film c'è un fiume enorme che arriva e tutti all'azione devono guardare questo fiume essere spaventati e fare così col fiume no oddio fiume ma se noi non siamo mai stati investiti da un fiume ma cosa cosa ne sappiamo di quale può essere la nostra reazione quindi andiamo a andiamo a fingere e tutti quanti è così strasberg invece ti fa fare delle sostituzioni e in qualche modo ti fa interpretare quella paura tornando nella tua memoria emotiva di le tue vecchie paure antiche e te le fa rivedere di fronte a te a quel punto nel momento in cui c'è l'azione della regia tu vedi quel fiume invece di vedere il fiume vedi qualcosa che ti ha spaventato veramente tanti anni fa e a quel punto la tua faccia la tua paura è vera e non stai fingendo e allora vorrei insegnare e insegno questo metodo perché è quello che ti dà maggiore soddisfazione che ti fa capire veramente che cos'è interpretare e non fingere ci saranno dei corsi prossimamente faccio delle lezioni private anche one to one e ora però ho dei progetti su roma e su firenze mi muovo un po e quindi non ho non ho più una classe fissa perché non sono stabile qua a livello san marinese quali riconoscimenti hai avuto per quanto riguarda la tua carriera come attore tanti complimenti tante strette di mano persone felici però non è che hanno avuto un premio piuttosto che c'è un riconoscimento morale quello sì è una soddisfazione per molte persone un orgoglio anche gli anni in cui ero spesso in televisione poi era assolutamente logicamente sai ti diventi un personaggio pubblico e quindi ora stando qui da sei anni sette anni sono tornato da roma quindi è molto più easy la cosa molto più tranquilla insomma le persone a cui tengo riconoscono la mia professionalità e quindi io sono molto sereno quindi va bene e il tuo personaggio più lungo a livello di serie tv è stato quello di cento vetrine cento vetrine c'è un prete padre christian padre christian a cento vetrine è stato un anno e mezzo due anni quanto ha durato più o meno non tutti i giorni non era un personaggio fisso diciamo che si chiamano più o meno non è proprio neanche un coprotagonista è un personaggio stabile in qualche modo un personaggio continuativo nella serie continuativo nella serie ecco sì è stato divertente sarei il prete si andava da roma prendevo l'aereo arrivavo a torino si girava san giusto canavese che è un paesino vicino a torino e molte volte poi restavo lì qualche giorno però inizia alle 9 vai in sala trucco costume vai sul set e a volte finisce alle 4 alle 5 alle 6 ti arrivano copioni combattute cambiate improvvisamente ai quei dieci minuti per studiare la battuta e poi girare è un po una catena di montaggio le soft e le fiction sono un po una catena di montaggio quindi di conseguenza ai poco tempo però ecco sono stati anni molto divertenti dunque una delle esperienze che tra l'altro abbiamo fatto insieme è stata appunto l'animazione teatrale dell'esposizione artistica di dario foe ti ricordo ai di quei momenti bellissimo un bellissimo ricordo perché dario foe è stato un grande maestro anche per noi in quei giorni che abbiamo lavorato con lui per me era la prima volta come lo era per voi quindi è stato affascinante personaggio pazzesco è stato la cultura italiana è una pietra miliare insomma e quindi per tutti noi è stata un'esperienza divertente geniale un uomo umile che si è messo a disposizione che ha messo la sua arte a nostra disposizione lui è talmente avete visto come come gestiva e come cosa ci diceva cioè i suoi quadri suo pensiero la sua arte ce l'ha fatta narrare a noi persone fondamentalmente sconosciute voi allievi io già maestro però in qualche modo del tutto sconosciuto a lui ha una sfera anche intelligenza italiana importante bene e quindi è stata per tutti noi una una cosa che ci rimarrà per sempre dentro perché ci ha insegnato parecchio dario foe e soprattutto ci ha dato molta responsabilità e fiducia questo ci ha insegnato dare responsabilità e fiducia poi se va a buon fine bene altrimenti è stata sarà una prova fallimentare però quello che ci ha regalato a noi tre a Giuliana poi chi c'era c'era un po' la classe ci eravamo in parecchi quello che ci ha regalato da io foe è stata una cosa molto importante dato che hai molti anni che non non fai l'attore e a livello di cinema e tv ti manca tornare sul piccolo schermo grande schermo cioè non è che non faccio per l'attore l'attore ho fatto continua a fare si non in scena ho fatto spettacoli anche anno scorso a roma firenze no in televisione in cinema sia ragione non sono da un po di tempo sì un po mi manca perché perché ti come dicevo prima sette divertente la televisione a fagocita un po forte molte volte mancano delle buone sceneggiature e quindi di conseguenza il prodotto non è dei migliori forse anche un po più volatile può essere rispetto al cinema sì sì assolutamente però come attore di cinema manca un po sì sì era bello e lo farò ancora voglia la vita è lunga bene a proprio questo proposito chiudo io chiedendoti appunto quali sono i tuoi progetti futuri in ambito artistico allora progetti futuri abbiamo a febbraio romeo giulietta al teatro ghione di roma nella settimana di san valentino dovevo fare romeo dice no sei troppo vecchio dico allora faccio mercuzio dice no sei troppo vecchio allora faccio tebaldo no sei troppo vecchio faccio la balia no sei troppo maschio bene faccio il papà di giulietta perché la nostra giulietta ha 16 anni la verità di giulietta ed un'attrice romana giovane bravissima e poi sto sponsorizzando un cortometraggio mediometraggio che abbiamo fatto anno scorso che si chiama pia muri o pia raggia e l'ho girato in sicilia per amore o per raggia a pia muri o pia raggia la raggia come dice il protagonista non è una rabbia è un rancore un risentimento una cosa tipica siciliana abbiamo girato questo documentario su questo salvatore fundarò che un ragazzo siciliano che lavora nei campi porta avanti le tradizioni del nonno è un contadino canterino mentre lavora la terra e si fa i semi quindi una cultura assolutamente antica lui porta avanti quella che era la sua tradizione di famiglia che era cantare nei campi canzoni siciliane mentre lavora contemporaneamente lavora con i pupi siciliani con il pronipote del primo puparo italiano e abbiamo fatto questo documentario molto bello abbiamo vinto il florence film awards sono stato selezionato a barcellona al rif di barcellona e poi abbiamo tanti altri festival che logicamente alcuni ci hanno scartato perché giusto poi c'è quest'idea di fare un teatro da casa tu crei un piccolo spettacolo lo porti negli appartamenti al teatro appartamento con due o tre personaggi padrone di casa invita 5 7 10 12 25 persone quelle che sono e tu gli fai uno spettacolo e è una cosa che sta andando di moda parecchio a roma già lavorano tanto in questo modo anche a firenze cioè io padrone di casa chiamo una compagnia teatrale che viene in casa mia si chiami la compagnia che sono formate due o tre attori e hanno uno spettacolo proprio da fare dentro le case poi tu chiami gli amici che vuoi e basta e si fa lo spettacolo mi viene da chiedere quanto costa spontaneamente a quanto costa dipende dipende dallo spettacolo dipende da se gli vuoi fare la cena con spettacolo stupendo questa mia amica a roma caterina per esempio è una sala una casa gigantesca lei fa la cena gli ospiti arrivano e in qualche modo gli danno una donazione perché non puoi far sì logicamente pagare perché non puoi far pagare in casa tu hai capito però in qualche modo tu fai loro ti fanno una donazione perché quello che hai speso per la cena è quello che spenderai per chiamare questa compagnia teatrale farti lo spettacolo devi avere una casa grande però se non lo puoi fare beh sì certo fanno spettacolo in questa stanza non è molto grande più difficile insomma un salotto un po grandino è ma non è un spettacolo chissà che molte volte sono due attori oppure un monologo tre attori quattro al massimo insomma però è una cosa che sta andando parecchio poi con i ragazzi della clavicola qui di San Marino abbiamo rifacciamo bordello uno spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso e forse rifacciamo anche il marito di mio figlio tieniti aggiornati se vuoi farcene anche parlare come radio web in volo più che volentieri va bene va bene quando sarai in scena con qualche spettacolo se vuoi venire qua con qualche collega a parlarcene sì perché poi dovremmo tornare in scena con vita lo spettacolo che parla tratta il tema del fine vita vorremmo riproporlo nuovamente a San Marino e veniamo magari anche con il gruppo dei diritti civili qua così vi raccontiamo un po' di vita volentieri grazie mille per essere stato con noi è stato un onore per noi intervistarti è stato un onore per me essere stato intervistato dai miei allievi buon proseguimento su radio web in volo ci rivediamo nella prossima puntata di vita da attore grazie mille